Sono Lorenzo Gentile, faccio parte del team TecnoZoo che collabora con l'azienda agricola Cannegrati Davide per quanto riguarda la consulenza in campo alimentare e oggi ho il piacere di presentarvi brevemente un po' il nostro sistema di lavoro. Cominciamo con un piccolo supporto in campo agronomico per quello che riguarda la scelta e poi la gestione delle foraggere, in questo caso lavoriamo in maniera importante con gli insilati preappassiti sia di prati, erbe mediche e soprattutto miscugli di autunno vernini, cerchiamo di ottimizzarne l'epoca di sfalcio e il loro utilizzo soprattutto partendo ad un'ottima gestione dello stoccaggio e quindi della messa in trincea per avere un prodotto migliore da poter offrire ai nostri animali. Nello specifico per quanto riguarda la lattazione abbiamo inserito come supporto il Daily Feed CD che è un integratore personalizzato apposta per il nostro cliente da 650 grammi con un tampone e un supporto vitaminico di livello. Mentre per quanto riguarda la gestione dell'asciutta abbiamo fatto un po' del nostro punto di forza il fieno di frumento che utilizziamo sia dalla messina asciutta fino al parto, dividendo chiaramente la gestione alimentare negli ultimi 20 giorni di preparto con un prodotto che è un po' il nostro cavallo di battaglia per quanto riguarda la fase di steaming up che è l'anion booster per il quale siamo importatori diretti per l'Italia che ci permette di ribilanciare i minerali in razione e ottimizzare al massimo la dieta in modo tale da ridurre quelle che sono le principali dismetabolie in fase di postparto. Siamo qui con Davide per parlare della nostra prima proposta di supporto nell'integrazione estiva per le vacche da latte che è l'Agecon 4, un prodotto storico in tecnozoo con un'importante azione sia antifermentativa che modulatoria in quanto è un pool di acidi con una tecnologia particolare che ne consente il bypass a livello ruminale fino nel tratto intestinale. Per descriverlo in maniera un pochettino più approfondita vorrei che dicesse qualche parola a Davide. Cercavamo un prodotto antifermentativo inizialmente per evitare il riscaldamento della miscelata. Invece abbiamo visto che questo prodotto Agipon 4 oltre ad avere un fattore antifermentativo aiuta anche il compattamento delle feci. La conferma di ciò la otteniamo mediante i setacci delle feci che offriamo col servizio analisi in campo di Tecnozoo. Questo negli anni ci ha permesso di vedere l'efficacia del prodotto sia per quanto riguarda la digeribilità della fibra sia per quanto riguarda il miglior assorbimento di alcuni nutrienti importanti legati chiaramente a un migliore stato di salute dell'intestino della vacca.